Signori, quest'oggi giochiamo a Underwater Cities, il nuovo gioco di Sushi. In questo gioco cercheremo di costruire delle città sommerse per sopperire la sovrappopolazione dell'umanità. Il gioco è diviso in tre ere. Per ogni era andiamo a utilizzare un mazzo specifico, quindi questo è quello di Era 1, poi abbiamo il mazzo di Era 2 e il mazzo di Era 3. L'Era 1 è formata da quattro turni, per poi passare alla prima fase di produzione, poi inizia la seconda era, tre turni, fase di produzione, terza era, tre turni, fase di produzione, score in finale. Sul tabellone di gioco vedete tutto intorno i spazi azione, i giocatori andranno a fare le azioni utilizzando i tre taloncini che abbiamo a testa e piazzandoli in questi spazi per fare l'azione corrispondente. Solitamente quelle verdi rappresentano le azioni più deboli, quelle gialle le azioni più forti. Poi abbiamo queste tre carte che sono della specie di contratti, degli obiettivi, che i giocatori vanno a completare nel momento in cui incontrano il requisito a sinistra, queste non si rifillano, il giocatore che lo fa si prende e ottiene il bonus. Poi abbiamo da questa parte l'ordine di turno che inizialmente si sceglie casualmente, questo è il tabellone, la plancia double sided, quindi per due giocatori, e poi abbiamo un tracciato della federazione in cui i giocatori avanzeranno andando a ottenere le risorse indicate e andando a cambiare l'ordine di turno. Questo invece è uno spazio sempre disponibile, più giocatori ci potranno andare. Le carte speciali con costo 1 e 2 che vengono mescolate insieme e si rivela sempre la prima carta in cima e abbiamo delle carte di livello 3 che sono 6 e sono 6 per l'intera durata della partita, queste non si rifillano mai. Molto importante questo schemino che riassume le varie strutture che noi possiamo piazzare nella nostra città, il loro costo e che cosa andranno a produrre durante la fase di produzione e questa qua è la produzione se quelle strutture o quei tunnel sono migliorati. Di città ne abbiamo di due tipi, le città normali chiamate città non simbiotiche che costano un tot di risorse e le città simbiotiche che costano di più, tra cui questo simbolino qua che indica una biomateria che è una risorsa molto rara che nella fase di produzione andrà a produrre anche punti vittoria. Questa è la plancia giocatore, iniziamo già con una città non simbiotica in questo spazio in basso a destra dove vedete queste righettature, questa è la nostra città di partenza, cercheremo di costruire questa città andando ad espanderci e costruire delle altre città, a inizio partita abbiamo queste due metropoli blu che cercheremo di collegare attraverso i tunnel per ottenere bonus indicati e abbiamo una città marrone e questa solitamente dà dei punti bonus a fine partita. Quindi costruiremo le città, negli spazi, nei tondi delle città andremo a costruire i vari edifici, quelli bianchi rappresentano dei laboratori, quelli gialli rappresentano degli impianti di desalinizzazione e quelle verdi rappresentano delle fattorie. Andremo a migliorare queste strutture, una volta andando a piazzare un altro token del colore corrispondente al di sopra, andremo a piazzare, molto importante, i tunnel per creare delle adiacenze, creare dei collegamenti che serviranno e saranno fondamentali per la produzione durante la fase di produzione. Queste sono le risorse di gioco, quindi abbiamo i crediti, abbiamo i token scienza che serviranno per andare a fare i miglioramenti delle strutture dei tunnel, abbiamo queste che sono kelp, ovvero le alghe, e questa è chiamata steelplast che è un'unione fra plastica e acciaio, non so se c'è un termine italiano, comunque quello. E qua abbiamo la biomateria che è una risorsa in realtà molto rara. Ogni giocatore a inizio partita pesca tre carte dal mazzo, ovviamente di era uno. Di queste sei carte ne scarta tre, quindi ne sceglie soltanto tre. E per i giocatori iniziali, diciamo, è conveniente avere carte dei tre colori diversi, quindi una gialla, una rossa e una verde, vedremo poi perché. Turno di gioco veramente molto semplice, il giocatore seguendo l'ordine di turno va a piazzare un suo taloncino in uno degli spazi non occupato della plancia, poi prosegue il secondo giocatore che sceglierà un altro spazio e così via, fin quando tutti i giocatori non hanno fatto tre turni. E si finisce il round e si passa a quello successivo. Ora, nel momento in cui gioco un taloncino in uno spazio, devo, e ripeto, devo giocare una carta dalla mano. Ho sempre tre carte in mano. All'inizio del mio turno, se ho degli eccessi, devo scartare fino ad averne tre. Il limite di carte è tre all'inizio del mio round. La prima cosa è scartare fino ad arrivare a tre. Quando gioco un taloncino, vado a giocare una carta. Se la carta ha un colore corrispondente allo spazio azione dove ho piazzato il taloncino, vado a eseguire l'azione della carta prima o dopo l'azione del taloncino. Se invece non c'è alcuna corrispondenza, la carta è bruciata, viene piazzata direttamente negli scarti senza eseguire l'azione. Quindi, per esempio, giocando questo taloncino in questo spazio, questo spazio mi consente di costruire una città, vado a giocare questa carta che è verde. C'è corrispondenza di colori. Prima o dopo aver costruito la città, vado a eseguire questa azione. Che praticamente mi fa pescare due carte e mi fa guadagnare una scienza. Ora, di carte ce ne sono di vari tipi, indicati da questa icona qua sopra. L'icona del fulmine indica una carta istantanea. Se c'è corrispondenza di colori, gioco questa carta, applico l'effetto sopra e poi la scarto. Se non c'è corrispondenza, la scarto e basta. In ogni caso, che ci sia o meno corrispondenza, è una carta istantanea, quindi si scarta. Poi abbiamo le carte azione, riconoscibili da questa A. Quando vado a giocare questa carta, se non c'è corrispondenza di colori, la carta è bruciata, come al solito scartata. Se c'è corrispondenza di colori, andrò a mettere la carta, ok, la deposito nella mia area di gioco. Come notate, ogni giocatore inizia con un assistente personale che, quando attivato, ci dà o uno steelplast oppure una moneta. Ora, di queste carte azione ho un limite di quattro carte, ne posso avere al massimo quattro. Queste carte azione non sono attivate subito, sono messe nella mia area di gioco e sono attivabili soltanto utilizzando uno spazio azione col talloncino dove vedete il simbolo A. Per esempio questo, per esempio questo spazio, ovviamente questa è la plancia per due giocatori, sul retro 3-4 ci sono altri spazi per attivare queste carte. Quando gioco una di questi spazi qui, attivo una carta azione andandola a tappare oppure la giro a faccia in giù. Abbiamo il limite di una attivazione per carta, ok? Quindi questa carta attivata una volta si gira e si andrà a ripristinare soltanto all'inizio dell'epoca successiva. Di queste carte azione il limite è quattro. Come abbiamo detto, se io ho quattro carte e ne voglio acquisire un'altra, a quel punto io devo scartarne una, ok? A mia scelta. Se quella carta è disponibile, ovvero non tappata, ok? E' la carta che sto per scartare, vado ad attivare subito il suo effetto. Dopodiché abbiamo le carte con il simbolo di infinito. Queste vengono giocate come qualsiasi altra carta. Se c'è corrispondenza di colori, andiamo a mettere la carta nella nostra area di gioco che ci darà un bonus permanente. L'effetto è solitamente intuitivo, ma c'è anche un testo al di sotto per capire. Poi abbiamo le carte con questo simbolino che indica la produzione. Questa carta si andrà ad attivare soltanto durante la fase di produzione. Le carte con questo simbolo qua invece indicano un bonus di fine partita. Quindi queste carte si attivano soltanto alla fine. Nota bene che il limite di quattro carte riguarda solo le carte azione, quelle colà. Tutte le restanti ne posso avere quante ne voglio. Quindi il turno di gioco molto facile. Prendo un taloncino, lo piazzo in uno spazio azione, gioco una carta. Se c'è corrispondenza ai colori, prima o dopo l'azione attivo la carta. Dopodiché alla fine del turno pesco sempre una carta dalla mano, indipendentemente da quante carte ho. All'inizio del prossimo turno devo scartare fino ad avere tre carte. Vediamo qualche spazio azione. Allora, ci sono degli spazi che banalmente ci forniscono risorse, tipo io vado qua e questo mi dà due steelplast e un'alga. Questo mi dà, oltre a farmi attivare una carta azione, mi dà due risorse diverse a mia scelta. Poi abbiamo questa spazio azione qua dove vedete la S. Questo è l'unico spazio e l'unico modo per prendere queste carte speciali che hanno una S sul retro. Io posso scegliere di prendere le carte di livello 3, ok? Questi sono bonus di fine partita. Attenzione che c'è un limite di tre carte in mano sempre, quindi non ha senso fare un rush per ottenere queste carte che tra l'altro non si rifilano. Quindi io vado a prendere per esempio questa carta. Queste carte indicano un costo, quelle di livello 3 ovviamente tre monete. Il costo si paga nel momento in cui giocheremo la carta, non quando la prendiamo ma quando la giochiamo. Oppure posso prendere le carte di primo o secondo livello. Posso scegliere di prendere la prima carta in cima che va in mano. Oppure se non mi piace questa carta decido di metterla sul fondo, pesco tre carte, ne scelgo una da tenere, metto le altre due in fondo, rivelo sempre la prima carta in cima. Queste carte quando acquisite vanno in mano e non pago il costo. Sono giocabili in qualsiasi momento come qualsiasi altra carta. Giocando un talloncino, se c'è corrispondenza di colori, queste carte vanno giocate. Nel momento in cui vado a giocare una carta speciale che ha un fulmine, questa carta giocata, se c'è corrispondenza di colori, va in fondo alla nostra plancia. Altrimenti tutte le altre carte ritorneranno in fondo a questo stack e quindi in qualche modo si riciclano. Quando vedete questa icona qui, indica di pescare delle carte che andiamo a pescare dal mazzo normale dell'epoca corrente. Questo ci fa pescare due carte. Attenzione che il limite di tre carte è all'inizio del mio turno successivo. Quindi io pesco due carte, all'inizio del mio turno successivo devo scartarne fino ad averne tre. Questa spaziazione qua ci fa salire in questo tracciato qua. Quindi per esempio questo ci fa avanzare di due step, questo per esempio 1 e 2. Ogni volta che entro in uno spazio prendo il bonus indicato a destra. In questo caso ero qui, ho fatto 1 e 2, prendo una moneta più uno steelplast. Se ero qui, faccio 1 e 2, prendo uno steelplast e un punto vittoria come indicato. Ogni punto aggiuntivo che dovrei sorpassare, per esempio se sono qui e devo fare altri due avanzamenti, guadagno due punti vittoria. Sono qui, tac, altri due punti vittoria. Questo spazio è uno spazio speciale, devo comunque giocare una carta dalla mano. Attenzione che questo è uno spazio che non ha un colore, quindi io devo comunque giocare una carta dalla mano, ma non potendo esserci alcuna corrispondenza di colore, perché questo non ha un colore, la carta è bruciata. Questa è l'azione, diciamo, estrema che cercheremo di non fare. Ci dà semplicemente la possibilità di pescare due carte e guadagnare due monete. In una partita per quattro giocatori, non utilizzabile in due e tre giocatori, c'è anche questo tile di clonazione. Andando a pagare un credito, ho la possibilità di copiare l'azione di uno spazio occupato di un altro giocatore. Attenzione, occupato da un altro giocatore, non occupato da me stesso. Questo significa che se io ho fatto un'azione per quattro giocatori, non è che posso copiare un'azione che io ho fatto. Copio l'azione di un altro giocatore. Vediamo poi le azioni di costruzione e o di upgrade. In questo spazio andiamo a costruire una città simbiotica o non simbiotica. Quindi, per esempio, possiamo costruire fino a due impianti di desalinizzazione. Qua possiamo costruire o fino a due farm o fino a due laboratori. Qua costruiamo una città e poi costruiamo un edificio a nostra scelta. Questo ci dà, per esempio, due scienze oppure possiamo fare fino a tre upgrade di tunnel oppure strutture fino a tre pagando una scienza per ognuno. Questo qua ci consente di fare fino a due tunnel. Veniamo quindi alle regole di costruzione. Prima di tutto, costruire le città. Città normali, non simbiotiche, bianche. Ci costano due steelplast, un alga, un credito. Città simbiotiche costano anche una biomateria. Le città le vado a costruire per adiacenza. Abbiamo una città iniziale che è interconnessa di già default nel nostro network. Le città vado per adiacenza. Quindi la prima, la seconda la potrei mettere qui, o la potrei mettere qui, o la potrei mettere qui. In questa fase, soltanto durante la fase di costruzione, non è necessario un tunnel. Quindi io posso andare per adiacenza, poi la prossima la metto così, la prossima la metto così, eccetera. Per costruire le strutture, ci bisogna pagare per esempio per la fattoria un'alga, per gli impianti un credito, e per i laboratori uno steelplast. I tunnel invece costano una moneta e uno steelplast. Le strutture le vado a costruire in questi tondini. I tondini che vedete tratteggiati non sono accessibili, lì ci si può costruire soltanto attraverso delle carte speciali. Posso costruire o adiacente, attaccato a una città, oppure adiacente a una città che posso costruire in seguito. Per esempio, posso andare così e mettermi così. Quindi in questa fase io posso espandermi per adiacenza anche con le mie strutture, tenendo in considerazione che durante la fase di produzione questa roba qui non produrrà nulla, se non collegata attraverso un tunnel e se non c'è una città. Quindi io vado a costruire le mie strutture in questo modo. I tunnel invece devono essere costruiti per adiacenze, quindi devo creare una connessione dalla città di partenza e quindi continuare il percorso. Non posso spargermi per esempio andare direttamente qui, ma devo fare tutta una conseguenza di tunnel. Come notate le plance sono double-sided, c'è una versione simmetrica dall'altra parte, questa è la versione diciamo asimmetrica che differisce un po' da plancia a plancia. Quando vedete un simbolino indicato qui, quello è un bonus che otteniamo immediatamente quando costruiamo il pezzo, che possono essere i tunnel oppure le strutture eccetera. Quando vedete un simbolo bordato di bianco e nero come in questo caso, invece rappresenta un costo aggiuntivo per costruire quel pezzo. Nella plancia avanzata abbiamo anche dei bonus di produzione, per esempio il tunnel che sarà messo qua andrà a produrre il triplo. Con un'azione speciale di upgrade possiamo migliorare le nostre strutture e i tunnel. Migliorare strutture e tunnel significa pompare la produzione durante la fase di produzione. Quindi per migliorare un edificio andiamo semplicemente a metterci il token dello stesso colore al di sopra. Per migliorare un tunnel lo giriamo semplicemente dall'altra parte. Come notate dalla tabella, questa tabella indica che cosa producono le varie strutture e i tunnel non migliorati e qua invece nella versione migliorata. In fase di setup iniziale abbiamo preso due metropoli blu a caso da mettere qui e una metropoli marrone da mettere qui. Nel momento in cui noi andiamo a collegare, attraverso questa conseguenza di tunnel abbiamo collegato la metropoli. Le metropoli blu danno un effetto istantaneo indicato dal fulmine, una tantum prendiamo le risorse indicate e danno un bonus di produzione, per esempio un punto vittoria durante la produzione. Le metropoli marroni invece sono più complesse perché sono necessari due tunnel per collegarle. Le metropoli marroni danno un bonus a fine partita. I giocatori a turno giocano un talloncino più una carta, avremo degli spazi occupati, finisce il round, alla fine del round si riprendono tutti i talloncini, si va a rideterminare l'ordine di turno in base alla federazione che vedete qui e il segnalino passa avanti. Se arriviamo alla fase di produzione c'è la produzione. Passiamo quindi alla fase di produzione. Allora durante la fase di produzione sarà importantissimo e fondamentale creare un network, quindi un collegamento. Abbiamo visto che durante la costruzione io posso per esempio costruire edifici per adiacenza ma anche senza un'eventuale connessione di tunnel e spargermi le città semplicemente per adiacenza. Durante la fase di produzione invece sarà necessario e fondamentale avere una connessione. Le città bianche diciamo non simbiotiche come abbiamo visto non producono nulla. Le città simbiotiche vanno a produrre due punti vittoria ma solo se sono connesse attraverso un tunnel alla città iniziale. I tunnel producono una moneta o una moneta e un punto vittoria se migliorati ma solo se questi tunnel sono connessi a una città. Quindi spargendomi in questo modo, per esempio questo tunnel, lo posso costruire perché c'è una continuità ma non è collegato a una città. Le strutture invece vanno a produrre prima di tutto se c'è una città. In questo caso sono state messe, costruite ma non c'è una città. In pratica nessuno ci vive, non ci sono lavoratori, quindi non funzionano e non producono nulla. Se mettiamo una città e se creiamo una connessione attraverso i tunnel allora quelle strutture andranno a produrre. Durante la fase di produzione poi attiviamo anche eventualmente le metropoli blu se sono connesse con i tunnel e eventuali carte col simbolo di produzione. Questo schermino riassume quindi la fase di produzione, la produzione dei nostri edifici, delle nostre strutture, delle carte, di eventuali metropoli con il simbolo di produzione. Dopodiché andiamo a ripristinare tutte le carte azione che abbiamo utilizzato nei turni precedenti. Dopodiché bisogna nutrire le città, non ha importanza se simbiotiche o non simbiotiche, dobbiamo pagare un'alga per ogni città. Se non possiamo pagare un'alga andremo a pagare una biomateria. Se non possiamo pagare neanche una biomateria andremo a pagare tre punti vittoria per ogni città che non possiamo soddisfare. Durante la fase di produzione abbiamo anche questo bonus qua che vedete. Questa tabella ci indica che se abbiamo una città con almeno due strutture entrambe migliorate dello stesso tipo andiamo a produrre risorse in più. Come vedete per esempio una fattoria migliorata produce un'alga e un punto vittoria. Se abbiamo due fattorie migliorate in una città andremo a produrre di colpo tre alghe e tre punti vittoria. Quindi conviene farlo. A fine partita dopo l'ultima fase di produzione e di nutrimento abbiamo dei punti addizionali. Prima di tutto guadagniamo gli eventuali punti dalla città marrone se ovviamente siamo riusciti a collegarla alla città di partenza. Poi otteniamo i bonus di fine partita di eventuali carte con il simbolo di fine partita. Andiamo a guadagnare in base all'espansione delle nostre città naturalmente collegate. Quindi una città senza edifici però con il collegamento ci darà due punti vittoria. Una città con un tipo di edifici tre punti vittoria con due tipi quattro con tre tipi sei. Questo diverso indica proprio che devono essere diversi. Quindi una città per esempio come questa che ha tre tipi diversi di edifici varrà sei punti vittoria. Dopodiché andiamo a trasformare le risorse rimanenti, alghe, scienza e steelplast una moneta, la biomateria due monete e poi ogni quattro monete abbiamo un punto vittoria. Ovviamente vince chi ha più punti, in caso di parità andiamo a vedere l'ordine di turno a fine partita. Ok, oggi il tempo è stretto così quindi non posso andare oltre. È un gioco veramente appassionante eventualmente. Ci sono un sacco di cose da tenere in considerazione e ci sono veramente una marea di carte. E bisogna sempre avere questa decisione nella mente, nell'azione da fare e eventualmente questa corrispondenza di colori che impiega tutta la nostra strategia. Nel selezionare che cosa fare, che costruire per espandere la nostra città anche in relazione alle eventuali carte che abbiamo in mano. che è dalle quali possiamo ottenere un beneficio però soltanto andando in combo con gli spaziazioni. Quindi questa è una parte veramente fondamentale e molto interessante del gioco. Comunque questo era Underwater Cities. Ci vediamo ovviamente per un altro gioco. Saluti. E E Grazie.